Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, finalmente sono tornata con un nuovo video in queste settimane ci sono stati anche un po' di update beauty ecco diciamo così ieri ho ripassato il tatuaggio alle sopracciglia, sono super 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 contenta vado sempre da Ilenia ed è troppo brava, cioè io adoro il suo modo di lavorare, adoro il risultato ovviamente è freschissimissimo, quindi adesso passerà tutta la fase di guarigione dove all'inizio sembra scuro scuro, poi diventa più chiaro, poi alla fine guarisce in un paio di settimane comunque sono contentissima di aver fatto il ritocco da lei e poi come vi dicevo nell'ultimo video avevo un po' di sete di unghie, quindi sono tornata a fare le unghie, le ho fatte così devo dire che il risultato mi piace molto, mi piace molto anche il colore che ho scelto volevo farle corte super naturali, poi quando le ho provate ho detto no, torniamo alla mandorla corta però mandorla oggi video con i prodotti finiti del periodo, ne ho tantissimi perciò inizierò subito ma prima anzi se vi piace questo make up trovate tutti i prodotti che ho utilizzato nell'info box ho finito la Tolerian Ultra 8, è una crema in spray della Roche Posay e mi piace tantissimo ne ho già un'altra in bagno, è una crema idratante spray quindi secondo me è ideale in questo periodo estivo se vogliamo idratare bene la pelle senza avere quella sensazione pesante, quella sensazione unta si vaporizza benissimo e la spruzzate come se fosse un tonico spray io però non la utilizzo come crema idratante classica, ecco diciamo la utilizzo come veloidratante, che ne so, dopo la doccia uscite dalla doccia e tipo me che ho la pelle secca, vi sentite la pelle tirare do una spruzzata di questo, così intanto la pelle non perde idratazione oppure dopo delle maschere all'argilla, magari quando mi sento la pelle un po' secca altra cosa, la mia routine mattutina si svolge così mi sveglio la mattina, vado in bagno, mi lavo la faccia col detergente però non faccio subito la mia skin care routine perché poi magari devo andare in palestra devo fare delle cose prima di farmi la skin care routine e poi eventualmente truccarmi però non voglio che in queste ore, che in questo tempo io non abbia idratazione sul viso quindi detergente e questa qui vado in palestra o quello che è, mi faccio la doccia e poi allora lì faccio la mia skin care routine io ve la super consiglio perché è davvero ottima, leggera, però idratante di questa vi ho parlato bene e male, fra virgolette, nelle mie stories se non mi seguite su Instagram vi state perdendo un sacco di cose un sacco di review lampo, un sacco di vita personale mia quindi mi raccomando seguitemi su Instagram se già non lo state facendo questa è la Biore UV Watery Essence SPF 50 Acqua Rich è una crema solare per il viso che io ho adorato, l'ho comprata in Giappone ma comunque si trova anche su Amazon o su YesStyle l'ho sempre utilizzata anche durante l'inverno magari non sempre perché d'inverno qualche giorno lo salto ecco con l'SPF però da quando arriva la primavera, estate, non salto un giorno ovviamente no? solo che con il lockdown eravamo tutti chiusi in casa quindi non ho messo granché SPF durante la primavera perciò mi sono accorta tardi che questa meravigliosa crema super super leggera, ottima come base viso anche per il make up che si spalmava così bene eccetera aveva un qualcosa che non andava per quanto mi riguarda quando ho cominciato ad utilizzarla tutti i giorni tipo fine maggio, giugno mi sono resa conto spalmandola che sentivo un qualcosa tipo di alcolico e non riuscivo a capire cioè proprio a livello di odore man mano che passavano i giorni mi veniva un po' il dubbio siccome qui dietro c'è scritto tutto in giapponese ho pensato senti chiedo a Riccardo che sa il giapponese di leggermi perché secondo me qui da qualche parte c'è l'alcol lui legge tutto quanto e poi mi dice guarda al secondo posto nella lista degli ingredienti c'è l'etanolo alcol e qui c'è scritto in giapponese avvertenze non utilizzare su pelle molto sensibile al secondo posto poi ho fatto delle ricerche confermo c'è l'etanolo l'alcol che è ok all'interno dei cosmetici io non lo amo particolarmente ho una pelle molto sensibile super mega ipersensibile e tendente al secco no crescendo il sebo pian pianino ci abbandona non tutti però un pochino ci abbandona a me ma abbastanza abbandonato ecco quindi ho bisogno di idratare molto tant'è che la settimana scorsa mi sono guardata alla luce naturale e mi son vista sulla fronte delle rughe che io non ho e mi son vista proprio la pelle che aveva sete disidratata quindi segnata e mi sono detta ma scusami io idrato tutti i giorni mi faccio tutti i crismi del mondo perché ho la pelle così? perché io ogni giorno stavo mettendo alte concentrazioni di alcol perché sapete più in alto è scritto l'ingrediente più è contenuto in quantità all'interno del prodotto e questa è una cosa che la mia pelle secca e sensibile non tollera bene perché ovviamente l'alcol va ad asciugare, a togliere idratazione quindi per me è molto controindicato se l'alcol è contenuto magari più in basso eccetera vuol dire che all'interno ce n'è meno e non mi dà fastidio però al secondo posto subito dopo l'acqua significa che è veramente troppo per me quindi mi sono chiesto ma perché i giapponesi ci mettono dentro l'alcol che comunque all'interno dei prodotti ci sta perché ripeto non l'avevo detto prima è un conservante da quello che ho capito perché ne hanno messo così tanto pensato e la mia idea è stata siccome lì fa comunque tanto caldo hanno problemi di pelle grassa loro cercano sempre di asciugare 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 probabilmente mettono l'alcol per al di là di far diventare la formula bella spalmosa che si spalma bene che si asciuga in fretta ma anche appunto perché non hanno problemi di pelle secca e quindi magari l'alcol è un prodotto così tende anche ad asciugare un pochino il sebo dal loro viso non è il mio caso ecco quindi io ve l'ho consigliata tantissimo tantissimo questa non la posso più utilizzare adesso ho smesso di utilizzarla da inizio settimana non so se è questo ma la mia pelle mi sembra già sulla via del miglioramento è anche un pochino meno rossa perché ultimamente era sempre tanto rossa non capivo perché quindi può essere che sia questo può essere che non sia questo se avete la pelle mista grassa e tollerate bene l'ingrediente questa ragazzi rimane una crema pazzesca io l'ho finita sul corpo faccio un altro disclaimer io non demonizzo l'alcol in generale proprio perché è un conservante e in certi prodotti in certe quantità è necessario tipo l'all nighter di Urban Decay contiene l'alcol ed è uno dei miei fissanti preferiti ma non lo uso tutti i giorni perché per il mio tipo di pelle è troppo l'alcol è troppo quindi lo uso una volta ogni tanto quando ho una serata un evento una volta ogni tanto andiamo avanti Vera Lab spumone detergente dell'estetista cinica a me è piaciuto parecchio devo dire è un classico detergente con la pompetta che vi fa una bella schiuma ha un profumo molto delicato e io lo utilizzavo al mattino perché alla sera preferisco un altro tipo di detergente detergente sapete che faccio la doppia detersione quindi prima vado a struccare con un olio emulsiono con l'acqua sciacquo e poi detergo secondo step con un detergente schiumoso questo va benissimo per farlo personalmente appunto preferisco una consistenza più tipo crema che poi mi diventa più schiumoso questo è molto arioso perché appunto è una mousse mi ci sono trovata proprio bene al mattino perché mi andava a togliere la polvere il sebo insomma il sudore o quello che è che si deposita sul viso durante la notte ma senza andarmi a seccare la pelle quindi cosa vuol dire questo? ho finito questo profumo per capelli di Nashi Argan ragazzi è troppo buono una volta l'ho messo sui capelli poi alla sera sul divano io e Riccardo eravamo abbracciati lui mi hanno usato i capelli mi fa mamma mia ma che buon profumo sembra quando ti fai la doccia al mare quel profumo estivo che ti lavi i capelli e poi esci e sei al mare io io in estasi davanti a questa cosa perché mi ha proprio aperto un mondo mi ha fatto vivere e respirare quei profumi e ho pensato che bella cosa che una persona sente un profumo e gli viene in mente questa immagine queste vibrazioni perciò io non posso far altro che consigliarvelo perché è veramente veramente buono a proposito di profumi ho finito questo qui di Killian che è I don't need a prince by my side to be a princess non ho bisogno di un principe al mio fianco per essere una principessa in tutta questa linea qui di Killian ogni profumo ogni fragranza ha una frase abbastanza di impatto ne ho un altro su di sopra che si chiama tipo risolviamo la questione da adulti in camera da letto il mood della collezione quindi quelli con la boccetta nera e la frase sotto è esattamente questo un po' capito? il profumo è molto buono dolcino ma non troppo sapete che io amo i profumi dolci ma non troppo buono 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 fresco dolcino non stucchevole se vi capita di andare da Sephora annusatelo di questa non parlerò tantissimo è la crema a mani di Kiehl's che mi piace sempre tantissimo la uso tutto l'anno perché mi protegge benissimo le mani e anche le cuticole se cercate una crema a mani invernale questa è fantastica ragazzi io la consiglio sempre io ho le mani sempre 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 tanto secche ho finito lo spray fissante di Fenty Beauty mi è piaciuto da pazzi io sono abbastanza picchi sono abbastanza puntigliosa con gli spray fissanti perché è difficile che ce ne sia uno che proprio mi ruba il cuore questo qui è diventato un super mega preferito alla pari del Fix Plus di MAC per dirvi era leggermente bifasico voi lo shakeravate e lo spruzzavate a parte che l'erogazione era magnifica il profumo non era forte però era proprio buono molto delicato e vi donava appunto questo effetto di pelle super dewy naturale quindi se avevate messo troppa cipria vi andava a togliere quello strato lì e risultavate super belle super idratate è uno spray che decisamente ricomprerò altra cosa che ho finito questo siero qui di Dr. Jart linea Ceramidin che è quella più idratante nutriente mi è piaciuto da pazzi non è un siero liquidoso che vi scorre via sembra una crema leggera tutta la linea devo dire mi piace un sacco quindi se avete la pelle secca io ve la consiglio ecco magari adesso è un po' troppo potreste provare ad usarlo alla sera e vedere un attimo come vi trovate di certo non è una crema da usare di giorno anche se avete la pelle secca in questo momento perché è un po' too much d'inverno io la usavo anche di giorno e il siero è fantastico ho finito l'extreme shampoo di Rankin questa linea mi piace veramente molto e ho preso lo shampoo extreme perché ultimamente non lo so per quale motivo però vedevo che perdevo parecchi capelli quando facevo la doccia perciò ho detto no fermi un secondo già magari mettevo qualche fialetta però sentivo che dovevo fare magari qualcosa a livello di shampoo quindi ho preso questo che usavo anni fa mi piace ho notato che mi ha rinforzato un pochino i capelli quando pettinavo i capelli in doccia io me ne trovavo meno sulla spazzola infatti l'ho già ricomprato e una volta a settimana lo faccio una volta a settimana perché poi durante gli altri giorni della settimana quando lavo i capelli uso altri shampoo cerco di alternare un pochino per non abituare il capello a mangiare sempre la stessa cosa ho finito il Paula's Choice Perfectly Balanced Foaming Cleanser devo dire che non mi ha fatto impazzire infatti l'ho relegato a cleanser della mattina anche se secondo me la sua idea era di essere un ottimo cleanser balm da usare come seconda detersione valido però non mi ha colpito più di tanto ragazzi anche questo ve lo faccio vedere al volo perché c'è un mistero dietro a questo prodotto sempre Rankin è il Fabricate 03 che è uno dei migliori termoprotettori che io abbia mai provato dico uno dei perché questo qua non lo riesco più a trovare da nessuna parte anche voi mi chiedete sempre ma Cheryl dove lo trovo non lo trovo più nemmeno io quindi sono corsa un attimino nei ripari e ho cercato altri termoprotettori ce n'è uno che sto usando e che mi sta piacendo un sacco che ho comprato su Planet Air ed è del brand Camon che si chiama Mania qualcosa e quello anche è super al pari di questo perché non vi secca i capelli si vaporizza super finemente e non ve li bagno quindi ottimo e continuerò a comprare quello perché funziona è praticamente molto simile e almeno si trova da qualche parte ho finito queste due creme qui di Nivea creme corpo crema olio questo è fiore di ciliegio e olio di jojoba questo qui è vaniglia e olio di mandorla molto buone devo dire molto molto cosa faccio abbastanza leggerine un profumo molto delicato secondo me veramente indicate per questo periodo perché si assorbono abbastanza bene abbastanza velocemente se le trovate al supermercato e non sapete che crema comprare io vi dico che queste sono valide le profumazioni sono veramente dolciine tenerine fiori di ciliegio vaniglia proprio per una ragazza per bene questa ragazzi I love Marc Jacobs Youthquake era da tanto tempo che non mi innamoravo così tanto di una crema questa crema l'ho utilizzata come crema giorno ed è stata un amore pazzesco a parte che ha un profumo molto delicato non direi una fragranza un profumo però ha una consistenza molto leggera Hydra Full Gel Cream voi la spalmate si assorbe molto velocemente e anche se è leggera vi idrata in un modo incredibile io ho delle creme di riferimento da avere ecco sapete che provo sempre tantissimi prodotti quindi le cambio spesso e la mia crema del tipo se provo 100 creme che non mi vanno bene mi distruggo la pelle so che devo tornare dall'ultrafacial cream di Kiehl's ecco adesso di fianco ci mettiamo anche lei perché è veramente meravigliosa meravigliosa io ve la super consiglio poi tra l'altro in questo periodo qua è davvero indicatissima questa me la metterò in un cofanetto con scritto prodotti assolutamente da ricomprare anche questo ve lo faccio vedere velocemente lo struccante occhi di Nivea che è il mio struccante bifasico preferito ormai probabilmente lo saprete io prima strucco gli occhi con il bifasico e poi passo ai vari oli per struccare tutto il viso e questo secondo me è uno dei migliori del mondo perché è super delicato vi scioglie l'impossibile e non mi dà fastidio agli occhi io sono molto sensibile con gli occhi e questo non mi dà nessun tipo di problema devo bere magari bere ogni tanto che buona l'acqua Paula's Choice Boost 10% Niamicide questo qui è un booster di vitamina B3 e vitamina B5 è indicata per tutti i tipi di pelle in realtà però se avete problemini brufolini queste cose qua vi aiuta molto a tenere la situazione sotto controllo non è assolutamente un esfoliante è un booster infatti qui dice di metterla o insieme alla crema oppure direttamente sul viso ma io ho detto fino adesso Niamicide Niacinamide io ho imparato il nome sbagliato quindi dirò sempre Niamicide tipo siccome sento di non avervi dato una spiegazione ideale di che cos'è vi leggo la Niacinamide è una forma della vitamina B3 che preserva la funzione di barriera della pelle regolarizza la produzione di sebo riduce le imperfezioni della pelle minimizza l'aspetto dei pori e dona un'azione illuminante indicatissima quindi per le pelli miste e per le pelli grasse io l'ho utilizzata io ho la pelle secca e devo dire che mi è piaciuto a livello di riduzione di sebo non sono la persona più adatta a dirvi se effettivamente mi ha ridotto il sebo oppure no ovviamente non è andata a seccarmi né niente e mi son vista più luminosa quindi potrebbe essere un ottimo jolly a volte lo usavo appunto mischiato alla crema altrimenti lo utilizzavo tipo siero oppure dopo al siero alla sera insomma è un jolly anche questa la faccio passare così rapida ma è una delle mie creme corpo preferite è quella di Yves Rocher all'argan e alla rosa ha un profumo incredibile e sono contentissima perché influencer che odio sta parola però influencer livello 1000 praticamente mi taggate sempre quando la comprate e mi dite mio dio ma avevi ragione ha un profumo incredibile si spalma subitissimo si assorbe subitissimo e vi idrata oh questo è un po' un evergreen Codalie o De Bottee questa qui era una edizione limitata io lo tenevo qui in realtà non lo uso come skin care ma lo tengo sul mio desk di trucco a volte lo spruzzo prima del make up è un bifasico quindi lo shakerate all'interno c'ha un olio ovviamente ha una fase di olio quindi se la spruzzo prima del make up mi dà quell'idratazioncina in più se magari ho la pelle sul secco andante ma quante ragioni ho ancora sto video dura cent'anni le mie maschere con le annotazioni maschera filorga in tessuto time filler mask leggo maschera rigenerante al collagene ben imbevuta e morbida l'ho fatta dopo la evening detox clay mask di this works maschera purificante all'argilla che è molto valida per chi ha la pelle secca da usare con parsimonia tipo io la riesco a tenere su massimo 5 minuti perché comunque è una maschera all'argilla credo che sia anche un po' mentolata e di più non ci riesco e mi ha lasciato la pelle glowy idratata e rimpolpata non so se sia stata la combo delle due maschere ma mi è piaciuta un sacco dopo quella maschera lì di this works sentivo di aver bisogno di andare a dare quella botta di idratazione che sono una buona maschera in tessuto vi sa dare io dopo aver fatto quelle due cose avevo una pelle pazzesca spugnetta trucco di by terry è fatta così a dovetto molto morbida molto carina e a me è piaciuta tanto ha una bella punta riuscite magari me la metto vicino alla faccia però riuscite ad andare bene a stendere il correttore oh indovinate ragazzi un altro prodotto che io amo alla follia e che quando sto per ricomprare per l'ennesima volta non c'è più non esiste è stato tolto dal commercio definitivamente io non so perché ragazzi nella mia vita succedono queste cose se mi seguite da tanto sapete che mi succede sempre quando io mi innamoro follemente di una cosa dopo un po' vedrai che me la tolgono una volta qualcuno mi aveva suggerito di inventare un codice quando parlo di un prodotto che amo pazzamente di non dire ah lo amo pazzamente ma di dire qualcosa tipo ah questo prodotto per fare una smorfia dire una parola strana in modo che il destino non me lo tolga dal commercio ve lo faccio vedere un passante perché mi fa male il cuore Rituals The Ritual of Sakura Flourishing Bed and Body Mist è uno spray per il corpo di Rituals brand che adoro la linea è The Ritual of Sakura che ha un profumo pazzesco fanno di tutto creme corpo bagno schiuma è buonissima penso che sia la mia preferita e c'era anche questo spray che si poteva usare sia sulle lenzuola mai fatto che sul corpo cioè voi immaginate se ci avete già presente il profumo di Sakura eccetera già adesso l'ho aperto e si è si sente il profumo io non lo posso più avere sto male vabbè pensate a quel profumo lì sul corpo addosso è incredibile perché l'hanno tolto è una delle cose più buone del mondo ho comprato di ripiego completo quell'altro si chiama The Ritual of Holy che non è in vetro è in plastica ed è tutto rosa ed è buono però non è così buono come questo non è così persistente questo qui durava questo me lo terrò qui ogni tanto me lo sniffo così che devo fare Sephora ama ciao ama Clean Skin Gel Cleanse più Tone quanto non mi è piaciuto questo detergente qui di Sephora proprio non mi è piaciuto per niente è un gel trasparente che però non mi sembra che mi abbia mai lavato la faccia più di tanto alla sera no quindi ovviamente se la sera non va bene viene relegato a detergente del mattino e anche al mattino a me non è piaciuto sinceramente proprio parlando schiattamente mi sembrava che non mi lavasse la faccia più di tanto sembra tipo un'acqua micellare in gel però anche un po' lo svelto come profumo non lo so se qualcuno l'ha provato ci dica com'è cosa ne pensate voi perché ovviamente lo dico sempre è tutto molto 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 soggettivo nel make up e nella skin care siamo tutti diversi quindi tante volte mi è capitato di non trovarmi assolutamente bene con un prodotto che magari tantissimi amano perciò non prendete quello che dico come oro colato fra virgolette ma rimanete con la mente aperta perché io ho un tipo di pelle ho dei gusti ho delle preferenze non tutti sono come me Lancôme Advanced Genifique Yeux Light Pearl questo è un siero per gli occhi e dice anche per le ciglia ha un applicatore vedete con la pallina in metallo è un prodotto che potete tenere anche in frigo così la pallina di metallo si raffredderà e si raffredderà ovviamente anche il prodotto perciò vi sgonfierà proprio meccanicamente il freddo vi sgonfia le occhiali e le borse se le avete costa tantissimo questo mi è stato inviato è una buona coccola devo dire che grazie a questo ho integrato i sieri per gli occhi nella mia routine non so se andrei a ricomprare questo principalmente per una questione di prezzo è molto 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 caro e non è che mi ha fatto tornare ad avere il contornocchi di una quindicenne ecco qui questo video dei prodotti finiti è un trauma altro prodotto che amo alla follia ho amato tantissimo e non esiste più è questa maschera di Kiehl's cilantro and orange extract non sempre quando fate una maschera e poi la togliete già dalla prima volta dico eh però non sempre quando poi la togliete dite che bella pelle che ho a volte la togliete dite boh magari devo continuare a usarla eccetera questa qui ragazzi vi faceva una pelle pazzesca già dal primo utilizzo e poi quando ogni volta ogni volta ogni volta io ragazzi mi toglievo la maschera e dicevo hai capito non c'è più quindi non ne parliamo più velocissimamente HD finishing powder nel colore banana me la vedete usare da anni è una cipria compatta di NYX professional makeup che usavo sotto agli occhi adesso sto provando altre cosine però diciamo che è quella che usavo sempre sotto agli occhi me l'avete vista veramente in centinaia di video come mi avete visto in centinaia di video il Tarte Shape Tape io uso la tonalità Fair è un po' un casino da trovare in Italia però se non erro lo vende ancora al sito QVC UK e poi penso che il sito di Tarte quello americano comunque te le venda le cose in Italia però è un po' a rischio e pericolo dogana se qualcuno ha esperienze di acquisto sul sito Tarte Cosmetics o comunque sa dover reperirlo lo condivida nei commenti perché penso possa essere utile io questo qua l'ho preso a New York e ne ho un altro di backup che mi sono fatta portare dalle mie amiche da Los Angeles quindi ah carini questi allora sono i cerottini per togliere i punti neri di Biore e fin qua niente di nuovo questi qua li ho presi a Tokyo ed erano Cherry Blossom non so se era un'edizione limitata o non lo so comunque era un'edizione particolare perché i cerottini avevano questa stampa qui non so se riuscite a vedere però questa qui del fiore di ciliegio ed erano anche profumati Teneri sono morbidi si adattano bene al vostro naso e vi tirano fuori discretamente i punti neri so che si trovano anche su Amazon i cerottini Biore in generale questi non lo so se li fanno ancora Ole Ericsson che in realtà si direbbe Ule se non ricordo male almeno lui quando l'ho incontrato l'anno scorso mi ha detto che si dice così Banana Bright Eye Cream c'è un motivo se tutti ne parlano e tutti ne parlano perché è molto buona ottima anche pre-makeup infatti un sacco di makeup artist la usano sugli altri la userei anch'io personalmente l'unica crema che mi piace ancora tantissimo pre-makeup è quella all'avocado di Kiehl's super grassa e capisco che sia troppo grassa per i più mi ricordo che ne parlavo con Daniele Mr. Daniel mi fa scusami tu usi quella per il mio contorno occhi è perfetto il mio correttore poi va su che è una meraviglia però io capisco che sia abbastanza inorridente si dice non so questa qui è ottima la uso alla sera mi piace molto ah questo era molto carino profumo di trussardi sound of donna molto buono dolcino ma fresco cavolo questo qua in questa stagione sarebbe stato veramente ottimo perché dolce ma fresco non pesante non invernale non lasciate la scia con questo qua è molto fresco ed è molto buono se vi capita sempre di andare a sentire profumi segnatevi questo perché è valido oh mio dio ma che tristezza questo video ho finito il mio profumo quello che continuo a ricomprare da quando andavo al liceo pensate voi quanti anni sono troppi non li conto stella di stella mccarni punto di domanda perché questo punto come vi dicevo lo compro e lo ricompro da quando andavo al liceo quindi è un po' il mio profumo ma non si sente su di me secondo me io non me lo sento a quanto pare anche gli altri non lo sentono siccome non è proprio economico non so se lo ricomprerò mamma mia che buono che è questo profumo è esattamente quello che vi aspettereste da una boccetta di questo tipo di questi colori bello scuro misterioso buono da morire non lo so se lo ricomprerò perché appunto io voglio un profumo che mi faccia lasciare la scia e questo non succede che ridere ho trovato dentro la nota di questo ho detto esattamente quello che avevo scritto qua ma io questo non mi ricordavo perché si è staccato e avevo detto non mi è piaciuto l'ho usato come detergente al mattino alla sera era abbastanza inutile come secondo step di doppia detersione coerente sa un po' di svelto non lo ricomprerei molto bene Carlotta brava ho finito la brow divine di Nabla Jupiter è il colore che uso io a me piacciono un sacco le brow divine di Nabla sono ottime ma ve ne ho parlato tantissimo quindi non mi soffermo più di tanto non mi soffermo più di tanto neanche su questa logora spugnetta di Wicon che ha la stessa forma di quella lì di By Terry che avevo fatto vedere prima questa però è un po' più culona questa è un pochino più più magra o sono uguali o questa sembra più magra perché è nera è vestita di nero quindi il nero slancia oggi con questo caldo il mio lato comico viene fuori così altro face sale che ho finito insomma questi qua li compro in pacchi da tre su Amazon non li uso per struccarmi cioè vengono venduti per struccarsi quindi li bandi con acqua calda li strizzi e ti puoi togliere tutto l'ambaradan non li uso in quel modo li uso per rimuovere le maschere oppure dopo la doppia detersione magari qui ai lati del volto lo passo per essere sicura di aver rimosso bene tutto il make up a volte mi capita magari anche con la doppia detersione che qua nella zona dei capelli non sono riuscita a togliere tutto e con questa la tolgo a me piacciono molto devo dire all'inizio sono un po' duretti poi però cominciano a mollarsi vedete questo è super mollo io li cambio quando sento che le le setoline qua diventano un po' troppo pixie rose ceramide cream molto carina anche qui siamo nel mondo magico delle ceramidi ceramidi quindi comunque un ingrediente idratante nutriente pelli secche se mi chiedete un paragone un confronto tra questa qui di pixie e la ceramidine di dr jart preferisco quella di dr jart perché questa qui è un pochino meno densa idrata comunque bene è una crema che ho usato alla sera però tra le due sinceramente preferisco l'altra oschia london super 16 advanced nutri active collagen serum è un serum di cui ho sentito parlare tantissimo specialmente dalle inglesi che sono molto fissate con la skin care e quindi ho deciso di provarlo ha un costo non indifferente devo dire ed è un siero al collagene comunque con tutti questi ingredienti che fanno bene alla vostra pelle se cercate idratazione collagene anti age tutto quel mondo lì infatti è un siero che era molto denso però non denso cremoso era sempre liquido ma denso a me è piaciuto la mia pelle non è cambiata drasticamente quindi non so se lo ricomprerei però non è un brutto prodotto ho finito il black magic mascara di Ico mi piacciono molto queste confezioni molle perché si riesce proprio a fare così capito e prendere bene tutti i lati del mascara il suo applicatore era fatto così quindi era un applicatore curvo molto carino mi dava un effetto panoramico non me le espessiva più di tanto ma non è che me le pettinava e basta cioè gli dava giusto un kick un kick me le apriva è il mascara che tenevo a casa per magari quando mi mettevo un po' di correttore giusto un po' di mascara la domenica capito anche se stavo a casa ma giusto togliere un attimo le occhiaie e aprire un attimo lo sguardo mi piaceva ho finito il pro filter in visi pink insomma la base occhi difenti non male devo dire l'associo più o meno Urban Decay Primer Potion Too Faced Shadow Insurance buona molto buona così com'è molto buono il Boing Cakeless Concealer ottimo mi piace veramente tanto io ho finito la shade numero 2 vi copre benissimo e non vi fa effetto super spessore non è come un Tarte Shape Tape che invece capito bisogna usarlo con parsimonia perché altrimenti ti fa un mascherone ti secca troppo questo qua devo dire che è una formula molto pigmentata perché di pigmento dentro ce n'è però non vi va ad appesantire il contorno degli occhi ne basta poco per avere un bel effetto luminoso sotto gli occhi è veramente un ottimo correttore potrei ricomprarlo non abbiamo ancora finito ragazzi passiamo ai prodotti bocciati Mario Badescu Enzyme Enzyme Cleansing Gel e questo qui non dico che è controverso però quando avevo detto su stories che non è che mi piacesse tantissimo tantissime tantissimi mi hanno detto no ma come io lo amo quindi rinnovo l'invito a prendere quello che dico con le pinze perché ad esempio io con questa non mi sono trovato bene tanti invece sì io mi sono segnata profumo buonissimo ed è vero ha un profumo gradevolissimo non è schiumogeno e non mi sembra di lavare la faccia molto sintetica esattamente questo è quello che penso di questo di questo cleanser ha un profumo davvero tanto buono è rinfrescante sa di un buon bagno schiuma non dolcissimo ma di quelli sai un po' estivi non mentolato sembrano indovinelli questi però è proprio tanto buono oh altro prodotto horror pie light work rose hip cleansing oil questo qua l'ho trovato alle casse sapete che da sephora alle casse adesso c'è questa cosa meravigliosa dove ci sono un sacco di mini size e travel size quindi è ottimo perché sia a livello di makeup che a livello di skin care potete provare di tutto e di più e infatti questo è il ragionamento che ho fatto io ho comprato questo olio visto che era in travel size all'inizio dell'anno poco prima del lockdown tipo una settimana scarsa prima che chiudessero tutto ho detto in vista dei viaggi che devo fare devo andare a Madrid devo andare a Los Angeles e a Las Vegas eccetera mi porto via un oletto però piccolino sappiamo già come è andata a finire con i viaggi ma non sappiamo ancora come è andata a finire con l'olio ragazzi male malissimo visto che ce l'avevo lì ho detto vabbè inutile che lo tengo lì proviamolo leggo non mi è piaciuto per niente ha una consistenza ok forse un filo più densa rispetto agli oli a cui sono abituata il problema più grosso è che strucca e soprattutto non si emulsiona bene con l'acqua sembra si emulsioni per finta rimane uno strato oleoso antipatico sul viso dovete detergere bene con un detergente un po' power e o con un panno in microfibra non lo ricomprerei non c'è nient'altro da aggiungere ultimo bocciato e questa però me l'avevate chiamata perché me l'avevate detto scrub labbra di Sephora questo qui è il dragon fruit lip scrub che proprio è esattamente come mi avete detto voi all'inizio scrubba bene poi dopo un tot mi diventa un burro cacao normale anzi c'è più burro cacao ma ci sono ancora un poco poco di granellini che sono decisamente troppo pochi per fare lo scrub e decisamente antipatici se lo vuoi usare come burro cacao quindi sono un po' infastidita mi verrebbe da lanciarlo giù da un burrone perché non posso usarlo né in un modo né nell'altro insomma ho anche comprato quello al miele insieme a questo spero che sia un po' meno fastidioso ragazzi sono senza voce ho finito questo video eterno io video corti mai ovviamente fatemi sapere voi cosa avete finito nei commenti ditemi se avete provato qualcuno di questi prodotti come vi trovate voi se siete d'accordo con me se invece qualcosa che non mi piace a voi è piaciuto e viceversa insomma ci ceriamo come al solito nei commenti se il video vi è piaciuto ragazzi come sempre lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale ed azionate la campanellina per non perdere le prossime notifiche entrerete così nella meravigliosa pandemonium notification squad e sarete tra i primi a ricevere una notifica sul telefono quando carico un nuovo video io vi mando un bacio gigante ragazzi e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao